Alle 20.00 Chi più ne ha più diventa Il nostro festeggiato Angelo Signorini e eccolo qua Mestri da Angelo 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 L'applauso, l'applauso degli amici Guardate la panoramica Aspetta l'applauso degli amici E andiamo L'applauso dei parenti Anso Siamo numero 1 Vai numero 1 Attrazione Angelo Angelo Anso 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 Angelo Angelo Anso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti